C'è una bellissima energia, un bellissimo vibe anche italiano con tantissimi produttori sia di materie prime, di brand, sicuramente è il riferimento dell'anno per il mondo pizza e pasta. Siete riusciti ad aggregare l'eccellenza italiana con il meglio dell'importatore e dell'istituzione UK. Penso che sia una fiera importante, noi ha diversi anni che partecipiamo. L'evento di quest'anno si sta dimostrando un successo sinceramente, sembra che tantissima gente e soprattutto buyers siano alla ricerca di prodotti nuovi. Penso che eventi di questo genere siano molto positivi a livello di ristorazione, a livello di scambio e a livello di conoscenza del mercato, in modo da gestire il proprio tempo qua professionalmente. In questa fiera da effettivamente la possibilità di interagire tra noi che compriamo il vino e i produttori per avere delle indicazioni più specifiche su quello che è il mercato inglese. L'Inghilterra ha una grande voglia di prodotto italiano, che sia cibo, che sia spiriti, che sia vino. Abbiamo delle grosse eccellenze, bisogna soltanto promuoverle e secondo me siamo sulla buona strada. Grazie. Grazie.